Che cosa ne pensa? È una cosa nuova, può essere bello, può essere carino, però bisogna aspettare la fine dei lavori, certamente. Poi quando sarà anche illuminato, è una roba nuova. È favorevole? Sì, bravi, almeno si fa qualcosa di nuovo, se no è sempre la solita cosa. Mi piace molto, sono molto soddisfatta perché è diverso dal solito e perché è ecologico e perché i disegni sono molto belli, perché il pittore del signore è molto bravo. Quindi godete lo spettacolo? Sì, sì, molto. A lei piace signora? Sì, l'ho vista lei, quello lì, guardava sempre quell'altro. Adesso questo è... Mi piace? Sì, mi piace, forza, sono permata proprio così, ah, io questo, e vedi c'è il suo altman, la sua, la gente, noi vogliamo la roba bella. Un pochino mi ricordo più il carnevale che il Natale, sinceramente, però si poteva far di meglio, dai. È un gusto un po' particolare, però non mi dispiace del tutto, non mi dispiace, anzi. Di dove è lei? Io sono di Sarnano, in provincia di Macerata. È una cosa nuova, le nevità vengono bene. Sì. È una cosa innovativa, sì. Che cosa le piace? Il fatto che sia di legno o che è un po' diverso dal solito? Il fatto che è un po' diverso dal solito e finalmente risparmiamo questi abeti. È un bel lavoro, però io sono per l'abete... Tradizionale. Tradizionale. Con le luci. Sì, qui ci saranno le luci. Sì. La vedo un po' perplessa. No, no, no. Vediamo quando è tutto finito. Mi sa che mi piacerebbe. Sì, 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 no, no. È una cosa diversa che si distingue. No, no, no. È giusto, è ecologico, diciamo, che non si abbatte nessuna pianta. Poi ci vuole un po' di arte, non solo a Natale, insomma. Ti piace? Sono di fan, no. Vabbè, un giudizio così... No. Solo impronta, no. No, è brutto. È brutto un po', dai. Però... Però... Particolare. Di dove sei? No, di Firenze. Ecco. Sì, vabbè. A Firenze come fanno l'albero? Di solito è verde, è vivo, con quelli col tronco... Vabbè, meglio. No, è particolare, dai. È originale. È tutto bello, è una cosa differente dal normale e ci deve essere perché i tempi sono moderni, insomma, bisogna essere aggiornati un po'. Non si può rimanere sempre come una volta. È uno spunto anche fotografico. Certamente, sicuramente. Quindi le piace? Sì, sì, un bel idea. Non solo dal punto di vista fotografico, ma le piace? No, una bella idea, una novità e sono proprio contenta, insomma, che a fanno si faccia qualcosa di diverso. Mi piace, è innovativo, di giorno ha un suo aspetto, mentre i soliti alberi di Natale e di giorno sono completamente morti, lasciano la piazza indifferente. Questo almeno crea un qualcosa. E poi andiamo a vederlo quando è finito. È inutile parlare, il ristorante si mangia male, ci sei mai stato? No, è allora. Ma purtroppo il problema di fan è che ci sono i fanesi. E io sono un fanese, però mi debbo rammaricare di questo. Guarda, mi sono fermato, sono andato così di passaggio, mi sono fermato, proprio mi piace. Cosa dico? Ho detto la mia. E poi a chi non piace si gira dall'altra parte, cammina e è a posto. A chi non piace, a chi piace guarda. Vi saluto e buon lavoro. Arrivederci.